Campania. Confermato anche per il nuovo anno scolastico l'abbonamento gratuito agli studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 luglio 2025, per la tratta dal comune di residenza a quello in cui assede l'istituto, università e solo nei giorni feriali, potranno essere aziendali o integrati a seconda che lo studente, per lo spostamento casa studio, utilizzi i mezzi di una sola azienda o di più aziende. La misura, voluta fortemente dal presidente dell'Aggiunta regionale, Vincenzo De Luca, è attiva dal 2016 con incremento continuo dei richiedenti, dagli oltre 87.000 del primo anno si è passati ai circa 137.000 del 2024. Da venerdì 9 agosto l'apertura della piattaforma per le candidature, sul sito web del Consorzio Unico Campania.